Via libera la creatività, trasformare in impresa un'idea innovativa a Napoli si può, perché a partire da oggi e per le prossime quattro settimane il Comune promuove il mese dell'innovazione. Si parte con Vulcanicamente, iniziativa che mira a tradurre idee innovative e originali in opportunità d'impresa. Farlo è semplice, basta avere talento, elaborare un progetto sui temi dell'innovazione tecnologica e partecipare entro il 2 aprile al bando pubblico scaricabile sul sito web istituzionale oppure collegandosi a www.incubatore-napoli-est.it Siamo convinti che nonostante le enorme difficoltà economiche che c'è, sia il momento giusto proprio per ripartire e Napoli, che ospiterà eventi internazionali, vedrà qui arrivare molte persone, molti soggetti. Alcuni di questi si faranno innamorare della città o delle idee che stanno nascendo in questa città e quindi magari aiutare con i loro investimenti, con i loro finanziamenti, i buoni ragazzi, le ottime iniziative che possono partire. Le 40 idee più interessanti, selezionate da una direzione scientifica composta da esperti del settore e rappresentanti del Comune, parteciperanno ad una fase di tutoraggio che consentirà di individuare le migliori 20 proposte da inserire nei percorsi di incubazione e start-up del Centro Servizi Incubatore di Napoli-Est. La struttura realizzata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio favorirà la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese, fornendo gratuitamente spazi e servizi per un periodo massimo di 18 mesi. I sei candidati più meritevoli avranno inoltre la possibilità di partecipare ad uno stagio gratuito di una settimana presso significative realtà imprenditoriali che operano all'estero. Il mese dell'innovazione prosegue a febbraio con nuovi bandi dedicati alle reti di imprese, alla mobilità ecosostenibile nel centro storico e al sostegno dell'artigianato. Il mese di febbraio sarà un mese particolare perché lanceremo una serie di bandi che abbiamo messo a punto da tempo, da quando ci siamo insediati e che adesso finalmente scattano. Uno è per l'incubatore a Napoli-Est, vulcanicamente, le nuove idee, ma sono importanti anche gli altri, quello sulle reti di impresa, la capacità di crescere insieme e di avere anche condizioni di denaro più facili per le imprese napoletane che si mettono in rete anche fuori dei confini locali, così come un bando riguarderà le navette ecologiche perché abbiamo bisogno di portare turisti all'interno della ZTL e ci rivolgeremo a un consorzio di operatori perché questo possa essere fatto. Il Comune investe più di un milione di euro su questa iniziativa e altre iniziative riguardano specificamente l'artigianato che ha bisogno di crescere, di consolidarsi e di rafforzarsi.